Il mondo dell'artigianato si sta dimostrando una delle parti più evolute, stanno lavorando con una grande forza nei mondi dell'innovazione e a differenza di quel che si pensa, forse sono più pronti di tante altre categorie produttive italiane. In particolare il tema della prototipizzazione della stampante 3D è un futuro molto forte per loro, il tema mi piace molto sottolineare in questo momento sono però le condizioni culturali, non innamoriamoci della stampante 3D, dobbiamo innamorarci dei principi della condivisione, vince chi oggi condivide, il mestiere artigiano è pensare con le mani, tante mani che pensano assieme, social networking che veicola, condivisione che poi viene trasformata in prodotto usante la stampante 3D, uso dell'internet degli oggetti per arricchire sempre di più i prodotti artigiani, quindi social networking, uso della stampa 3D, condivisione e internet of things come grandi prospettive attraverso le quali il mondo artigiano può trovare una sua dimensione di progresso e di avanzamento. Grazie